Siamo due a zero per loro, giustamente, festeggiano, ma, caro il mio pop, a questo punto è una ragazza che è un ragazzo, eh, s'affida, mamma mia! Arrivano i campioni del team avversario, buongiorno! Io ti ho a disposizione! Aspetta, aspetta! Arrivo, arrivo! Passa più! Si è spaventato Marietto, eh! Marietto! Ci dotti! Lucetto! Certo! Ci dovete riuscire a disegare un bel cerchio sulla pista? Allora, ragazzi, vissi! Sì, è meglio, scendi, che pericoloso, scendi, giù di lì, è arrivato quasi, è il momento di assegnare finalmente il primo punto al team, all'inizio! Sì, è inizialmente! Oh, mamma mia! Si è evitato la perfetta eseguizione del Drift del Cobra, ma comunque si è sentito che il nostro Cobra potrebbe essere battuto in partenza da un'auto speciale. Vanno a Berlina! Vanno a Berlina! Le mani, le mani, le mani, le mani! Alla Versandria! Vai, vai, vai! Ehi, 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 ehi! Noi ci sono parole in azione così. Allora penso che non ci sarà bene un prodotto di evoluzione dopo evoluzione, ma... Vi faccio urlare dai nostri concittadini in risultato parziale. Tutti insieme! Fare! 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 人! Oh! Ah! Ami! Non! Nome! Luciano he! edsuna! Unos村! Avanti tornare year!" Impostate il têm nedo il进izkeeper recente. Und こostiamo nell' 있으 seamless è. Buona acqua, possiamo fare, bravissimo, hai guadagnato tutto lo spazio che vedi, vai, 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 porta la macchina in salvo Basta, basta, porta dietro, se in seguito non potete allora, mi sa che ha lasciato un'acchiacata, forse è una buona, se fa, lo fa anche dato fino a tornare, attenzione, spegni, allora da questo, volete una bella? E' un buon vera sia! Arriva la macchina rossa più potente che ci sia, vai, 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 lascia lo spazio, spegni la macchina, vai, fermo, 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 E' un buon vero! E' un buon vero! E' un buon vero! E' un buon vero! Bellissimo! Andanano la salute a ciò. E' un buon vero! E' un buon vero! No! Basta! Andate bene! Fuori! Fuori! Anche non c'è il mio altro momento che approfittatemi di tutto lo spazio disponibile fuori i mezzi speciali! Arrivalo D'Ostres! WOOOOOO! WOOOOOO! Welcome! Oh, 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 oh sono vincite, lui giocherebbe tutto, sono delle proprie, le proprie siano, vediamo se anche lo spalla finisce all'inizio del programma, ci siamo, proviamo a te, allora noi siamo particolarmente entusiasti di assistere a questo magico momento, che c'è Aya, sta zitto appena finito il gioco della pentolaccia, non vede bene, non è pericoloso, via via via, non stiamo a rischiare, con strega, comanda colore, ma dai, signori, attenzione al team avversario, con 4 con le gambe, sui due ombre, arriva, 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 lo spalla, uuuuuh, vincabile, punto più che meritato, boccato, sposti, faccia il salto, faccia il salto, faccia il salto, lascia il salto, lascia il salto, lascia il salto, lascia il salto, adesso vi dobbiamo dire che ci sono mantenuti, l'ultima energia per la sfida, la sfida, la sfida per la, signorina, signorina, un attimo solo che bobbè, signorina, bobbè, signorina, scusi, un attimo, è inutile continuare la sfida, ah, inutile, state solo perdendo, perdendo, inutili anche i miliardi, miliardi, non è questione di miliazione, eh? Allora, noi dello Queens, non ci arrediamo mai, accetta la sfida, yes, e allora provi per la pista, impossibile, wow, 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 wow.